bella a tutti ragazzi conci qua su Tracker Logistics Simulator benvenuti in questo secondo episodio nel primo vi ho fatto vedere una missione circa di come si fa, di quello che è eccetera eccetera io adesso vorrei vedere una missione online online cosa vuol dire? vediamo un po' multigiocatore vediamo un po' com'è, spero che ci sia della gente perché questo comunque è cross platform quindi, allora, bene ci fa scegliere prima il furgone cioè ci fa scegliere prima la macchina che vogliamo io sempre scelgo il mio camion sono affezionato cross play attivato connettiti a una partita e partecipare a una partita connettiti forse connettiti per creare la partita connettiti ad una partita casuale vabbè partecipare a una mostra, crea partita partecipare a una partita privata vabbè, ecco fatto, ha trovato miracolo david kill numero di giocatore 4 di 4 chat avvia il motore benzina ce l'ho chat rapida rb devo andare ciao scusami grazie o no caspita ottimo lavoro dividiamo il carico andiamo aspetta mi segui e andiamo io gli spammo un grazie oh appare qua a destra perfetto andiamo a farci subito un lavoretto vediamo un secondo 3 di 4 cantiere centro logistico il blu che cos'è trasporto di auto roulotte andiamo al blu andiamo al blu raga fico posso andare quassù con l'audo con l'audo camion ma come recupera veicolo ma poi i soldi me li faccio io o se li fa lui mica ho capito io vabbè usciamo di qua andiamo in quello blu trasporto di auto o robe varie vediamo un po' cosa dovremmo fare con questo camion mi apri grazie allora quello blu è proprio avanti a sinistra allora quello incidente vuol dire che gli incidenti sono attivi le collisioni sono attive quindi sì forse il carico si danneggia ma chi se ne frega noi dobbiamo andare qui centro logistico è qui ping 53 eh ma andò qua che devo andare io faccio il giro forse qui a sinistra buh di qua eccolo lì sì 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 qua che è eccolo qua trasportiamo che cacchio dovevamo ci fa fare non c'è maledetto andiamo in questo qua allora che tipo eh no 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 non voglio fare sta roba qua uh andiamo in questo qua che è misto nel prossimo a destra facciamo chat rapida grazie allora benzina ce l'abbiamo che poi gasolio vabbè allora andiamo in questo centro multicabalico vediamo un po' che cos'è sta missione qui entriamo qui perfetto che non so se è quella di prima questa ma va bene uh bella quella e 1500 3000 1900 e 1300 1904 quindi ci viene una bella cisternona raga 3500 1949 contene l'abbiamo già fatto facciamo cisternona che è più o meno uguale cisternona cisternona online this this fammi caricare ok ah ok distribuisce si pari ok scusa aspetta che devo allungare l'affare ok si altrimenti si bug allora il centro qui eh si ok l'ho caricato tiriamolo su danger flammable liquids io mi caccherei sotto io queste robe qua raga cioè vi cade giù si buca veramente siete no fregati di più veramente ok perfetto avvia il motore pari adesso facciamo come in mega pro andiamo andiamo tipo in retromarcia fuori con il gomito fuori dal finestrino tipo do cacchio sto andando vabbè è un giro da pro questi allora deve essere eccolo qua il mio ciamioncino ok vedete facendo così è molto più ok agganciato seguiamo la navigazione fino al seguiamo la navigazione fino al punto di destinazione posso vabbè facciamo la notturna si potrei switchare ma facciamo un carico notturno visto che questo qua questo camion va su non ha paura ragazzi questi sono cavalli dov'è il tizio è la sua 2200 metri qui ci fa vedere dal hub dal hub ad hud la display praticamente ci fa vedere dove sta giocatore due di quattro siamo solo io e lui allora che z va chi sa da dove gioca lui comunque ci sta gente online molto bene peccato che non c'è la chat vocale beh su beh su fortine c'è quindi si ci potrebbe stare no ma che succede siete capaci di usare la rotonda e devo andare di qua io ma perché frena questo ah mo c'è la rafrena deciditi questa per esempio ma che cacchio forse laggano anche loro poveri gli NPC lol senti questo me lo devo sorpassare ho già capito io via adesso che non c'è nessuno vai avanti tutta mannaggia lui che dai ok ce l'ho fatta con velox vabbè non ho preso multe perché andavo sotto il limite aia non è successo niente fermate brutto e mo dai vai che non hai fatto niente e mo è arrivato il tuo cugino dai sono arrivato a destination penso eh parcheggia il veicolo si fammi entrare però ma perché dovrebbero aver bisogno di gas infiammabile qua dove fanno il cemento qua lo cacchio devo parcheggiarlo di qua ma ok come scommettiamo che io vado sono al contrario no miracolo beh avanti tutta raga più facile di qua ma io voglio un 100% di stop continua allora un chilometro quindi si tornate millenove caricamento bonus solid 250 bonus parcheggio carico carico danneggiato zero beh tre stelle avanti tutta raga molto bene molto bene sono contentissimo ragazzi io mi fermo qua quindi vi ringrazio a tutti per stati con me come sempre commentate se vi piacciono ragazzi spero che questo video sia piaciuto come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao medici e buona serata buona giornata a tutti ciao ciao